Io alcuni già li sento Ma che te pensavi di perdere con la Salernitana? No, però un pareggio lo temevo Perché se sono quelle partite tra Polone Che tu arrivi e dici Vabbè ma quelli che hanno mezzo la squadra fuori Vabbè ma gioca mezza primavera Eh, e poi magari ci pareggi al novantesimo O te prende una giornata storta Perché questo principio del ma te pare che si applicava a tante altre partite In cui ci hanno massacrato Quindi non parto mai con la sicurezza E meno male perché oggi è stata una sorpresa Quel 2-0 praticamente immediato Mi sono goduto una partita serena A chiacchierare con mio padre oggi Come non capitava da un po' Come non capitava da un po' Una cosa piacevole, serena Me la sono vista, tranquillo E un par di volte l'anno capita Però anche oggi i temi non mancano Perché partita sicuramente affrontata bene Approcciata bene Pronti via 2-0 Nonostante l'avversario non fosse temibilissimo Perché chiaro La terminale di questo particolare periodo Complicità che ha tante assenze Non è proprio la squadra più temibile del campionato Però Lo sport è bello perché è imprevedibile O tendenzialmente non ha degli assoluti Che lo determinano Per cui Non parti mai Con la cosa Vabbè ma tanto è fatta Però Al di là di quello Il discorso è Ma aspettavo un po' di più Cioè Per come si era messa Speravo che la squadra Avrebbe spinto un po' di più E soprattutto Che i giocatori Che normalmente Non si vedono Avrebbero fatto qualcosa in più Per dar valore Alla propria presenza Per far risaltare il loro talento Non lo so Per certi versi Una partita che Non è stata approcciata O meglio Gestita Nella maniera migliore possibile Secondo me Avrei gradito Un po' più di fame Un po' più di grinta Un po' più di voglia Invece sul 2-0 Hanno tirato un po' tutti i remi in barca Abbastati i ritmi Io sono uno di quelli Che concepisce Nello sport I Che era Germania-Brasile Sì Non il Non te faccio male Perché Il principio Del non te faccio male È una mancanza di rispetto A me me l'hanno insegnata così Forse perché lo sport Me l'hanno insegnata all'estero Ma comunque O meglio La filosofia Nell'approcciare lo sport Che è una cosa brutta Invece noi in Italia Facciamo il contrario Cioè io No io me devo tenere Perché sennò poi ti offendi Cioè c'è questa cultura Del Non ti devo umiliare Che è E' essa stessa Un'umiliazione Non so se riesco a rendere La sfumatura Ma comunque Proprio a fronte di questa mia Concezione dello sport Io avrei voluto vedere Una squadra un po' più Grintosa Oggi E non che sul 2-0 Si rilassa No Avrei voluto vedere Luisa Alberto Molto molto Padrone del campo Perché se non lo sei Neanche in quelle partite Quando lo devi essere Invece non ha fatto La differenza Concretamente Oggi Non ha fatto Quizzi Sprazi Cose particolari Anzi Ti ho rivisto Fa la cinquantesima Vorta Sempre questo Tentativo Di tiro A giro Che si traduce Con lui Che la strozza La manda All'alo del palo Opposto rispetto a quello In cui lo avrebbe voluto La mette No E chiunque Esegola l'Alaschio Lo sa A cosa mi riferisco E' un mese Che succede sempre La stessa scena Ogni volta che gioca Comunque Ci ho detto Partita sicuramente Difficile da Usare come metro Di giudizio Sui singoli giocatori In maniera veramente Consistente Immobile ha fatto I suoi due gol Su rigore No 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 Oggi no Oggi no Non erano su no Chiedo scusa E sono abituato Sono abituato A commentare Siccome quello Signale sempre su rigore E oggi Pensavo che l'avesse fatta Che oggi Però ha preso Ha preso una traversa Su rigore No No Neanche la traversa Era su rigore Vabbè Oggi non ci so Oggi Oggi è stata Già la fortunata Oggi Immobile è riuscito A segnare Su un assist Assolutamente involontario Di Milinkovic Che è sopravvalutato Come dicono alcuni No A parte l'ironia Doverosa Milinkovic oggi ha fatto Una cosa Milinkovic oggi ha fatto Ha fatto una cosa Milinkovic oggi Oggi poi È in campionato intero Che dispensa Nessuno di calcio Ovunque va Vabbè Bellissimo Bellissimo l'assist Bellissimo il gol Bello anche il secondo gol Su assist di Pedro Che poi fortunatamente È uscito Per prevenire Eventuali danni Più concreti Al suo amatissimo Volpaccio E meno male Felipe è entrato Un assist Lazzari è entrato Un gol Polemico Inutilmente polemico Quella maglia tolta Lanciata In maniera polemica Come se tu fossi Garrincia Che sta segnando In finale dei mondiali E dovessi reclamare La tua dignità Professionale Quando nessuno Te l'ha mai tolta Ma semplicemente Se fai panca Un motivo C'è E basta Andare a stare a vedere Le partite in cui ha giocato Per rendersi conto Del perché Inizia sempre in panca E gli viene preferito Marovic Voglio dire Io capisco Che questa sia l'annata In cui tutti parlano E in cui tutti Devono 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 far cose In cui tutti C'hanno la vena chiusa Che Quindi C'hanno questi momenti Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Minimamente Non mi è piaciuto Minimamente Avrei gradito Anzi Un'esultanza Liberatoria Non polemica Perché Perché sì Perché in questo momento Non serve Tutta sta roba Non serve Esattamente Come non servono Quelle sterili polemiche Che mi hanno riportato Alcuni ragazzi Le ringrazio Relativi a All'assenza di Vavro Fra i titolari Mossed Dopo mette pure a discutere Su Vavro Che manca fra i titolari Cioè Veramente Veramente Stiamo arrivando A un punto In cui l'ambiente Ha dei Dei continui Nemici In casa Non che Lazzari Lo sia Sto estendendo Il discorso Ad altri temi Ma in cui Comunque Tendenzialmente Facciamo un po' Di 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 Comportamenti Autodistruttivi A volte Poco Poco Funzionali A Qualsiasi Obiettivo Positivo Voglio dire Comunque C'è sta L'adrenalina Quindi diamogli Il peso Che deve avere Però Commentiamo un po' Tutto Ci tenevo a dire La mia Anche su questa Questione Ho visto Stracoscia Usci Oggi Come Mai Non mi ricordo Tutte le volte Che Stracoscia Usciva dai pali Per fare qualcosa Per cui Sono avuto un attimo Di mancamento Però pure oggi Restano le solite Questioni Oggi Lo ammetto Ero un po' Più distratto Dalle questioni Di mercato Che dalla partita Per quanto appunto Avessi il timore Di poter perdere Punti Ma in gioco Forza È una stagione In cui Aspetti In una fase Di campionato Qualcosa Da quel punto Di vista Ma distratto Sto pensando A sta voce Che sembrerebbe Concreta Del CS Che ha interessato A Morici Che però Non sarebbe Come l'hanno raccontata Ma ci sarebbe Un prestito Oneroso Con diritto Di riscatto Richiesto Dal CSKA Per portarselo Via Non Quest'offerta Faraonica De 10 milioni Che schifo Così come Sto pensando A tutto quello Che si dice Riguardo all'incontro Fra Sarri e Lodito Che è stato Rassicurante Nei confronti Dell'allenatore E gli ha promesso Rinforzi Però Stava a Mar 14 E si rinforzi Quando gli fa Marivà E 30 Notte Cioè Non lo so Ragazzi Non lo so È una stagione Complicata Anche il discorso Detare Vorrei capire un po' Che piega prenderà Resta comunque il fatto Oggi buona prestazione Però Tocca vedere adesso Con l'Atalanta Che succede Ecco quello è un po' Sta nel banco di prova Importante Per capire se c'è una crescita Effettiva Nell'idea Di calcio Che Sarri sta portando avanti Nella testa Di giocatori In tanti ambiti In tanti ambiti Adesso vediamo Pedro Diciamo che L'esterno Adesso Il sinistro che sia Mi preoccupa poco Perché comunque Le alternative ci sono È l'unico ruolo in campo In cui ne abbiamo In cui l'assenza di uno Non preclude O non pregiudica niente Di veramente profondo Certo Pedro Ora è il titolare Però l'idea Che possa giocare Felipe Anderson Con Zaccani Dall'altra parte Non mi crea Tutto sto disagio Mi creerebbe più disagio Un problema Centrocampo Infatti La munizione Di Cataldi Mi preoccupa un po' Perché In una partita Molto fisica Molto Importante L'idea Di andarci con Leiva O Leiva Di fare il partitone Della vita Oppure diventa Complicato Atleticamente Far fronte A quella che è L'Atalanta Con uno come Leiva Che non è Per mancarsi di talento Ma per un discorso Puramente anagrafico Che faccio questo discorso Quindi insomma Mancheranno un po' L'alternativa in mezzo Bisogna vedere Come la gestirà Mi immagino comunque Che si andrà su Milinkovic Basic Per fare un po' Da compagni Darmi In quella parte di campo Con Leiva Ecco Luiz Alberto Non me lo immagino Onestamente In quella partita Comunque A netto di tutto Ragazzi miei Ho parlato pure Troppo oggi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Come l'avete vista Cosa ne pensate Cosa vi aspettate dal mercato Poi ne riparleremo Magari con calma In settimana Vorrei Vorrei organizzare Se riesco a trovare tempo Una live Da facco Giovanni Se vorrà Se ci sarà tempo Insomma Per tutte e due Perché tante cose Dobbiamo dire Poi concretamente Tanti argomenti Da affrontare Tante cose da commentare Concretamente Per quanto Un pelo di frustrazione Per quello che è Il contesto E l'ambiente Ultimamente c'è Vorrei Che fossimo un po' Tutti più compatti E purtroppo Non vedo Questa unione di intenti Nell'ambiente Lazio a 360 gradi Siamo Siamo divisi Troppo I schieramenti E non è bello Quando succede Come in tutte le famiglie Non è bello Quando succede Comunque ragazzi Un grande abbraccio Sempre forza Lazio E noi ci vediamo A breve Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti